ciao vaccinarsi è un atto di responsabilità fallo anche tu e fallo non solo per te stesso ma fallo per per i tuoi familiari per i tuoi amici per i tuoi colleghi è importantissimo vaccinarsi il vaccino è l'alleato per sconfiggere il virus ed è sicuro non diamogli la vinta vaccinarsi è un atto di responsabilità non solo per te ma anche per gli altri pensaci i vaccini sono importanti e non solo per quello che riguarda il cobit ascoltiamo la ragione ma seguiamo il cuore vacciniamoci grazie a tutti